Dal 4 al 9 luglio Arezzo sarà letteralmente blindata per la 19esima edizione del Mango Music Fest che si svolgerà al Prato. Quattro le serate ad ingresso gratuito che porteranno in città tra gli altri Rosa Chemical, Zen Circus e Alan Sorrenti, mentre restano aperte le prevendite il 7 e l'8 di luglio con Comacose, Baustelle e Salmo per cui i biglietti stanno andando a ruba. Ci siamo, 19esima edizione del Mango Festival in arrivo dal 4 al 9 luglio al Parco Il Prato, con un'anteprima anche il 3 luglio all'Arena Eden con Margini, la produzione del film e l'attore protagonista Matteo Crea. Poi dal 4 luglio Spazio alla Musica al Prato, anche con un'altra anteprima insieme a Spazio Seme al Tattolo Petrarca, sempre il 4 luglio e quindi una sei giorni poi di concerti sera per sera con ospiti importanti da Salmo a Comacose, Baustelle, Planet Funk, Alan Sorrenti, i Zen Circus, Rosa Chemical. Ogni sera veramente spazio tantissimi artisti. Nell'area del Prato ci sarà un'area food con i track specializzati in grandi eventi, Ristoro, Bar, l'area market e quindi attendiamo tantissimi partecipanti, dal 4, 5, 6 con ingresso gratuito, 7, 8 con un biglietto di cui stanno finendo le ultime disponibilità e il 9 luglio ancora gratuito. Quest'anno il Mango utilizzerà per uno dei suoi eventi, il 4 luglio, il Teatro Petrarca. Di per sé sembrerebbe una notizia non particolarmente interessante, in realtà lo potrà utilizzare perché da quest'anno il Teatro Petrarca è dotato di aria condizionata. Lasciatemi ringraziare il Comune che ha fatto questi lavori perché questo va nel potenziamento non solo della qualità del teatro, che di per sé era già un bellissimo teatro, ma per il comfort e soprattutto apre degli scenari anche diversi nel caso si dovesse ospitare altri spettacoli, anche in emergenza perché magari piove. È una notizia importante, la cultura si fa non soltanto con gli eventi ma anche potenziando le infrastrutture. Dopo i grandi numeri dello scorso anno, l'attesa è davvero grande per questa edizione del Mango. È un bel programma, il Comune sostiene l'associazione Music che organizza il Mango Music Fest attraverso un bando triennale, siamo al secondo anno quindi siamo a metà, 19esima edizione, veramente un bel programma ricco con tante collaterali, tra l'altro ci tengo a precisare anche la collaborazione dell'associazione Dog e del liceo Vittoria Colonna con due progetti, l'associazione Dog con gli operatori di strada ovviamente per il sano divertimento per i ragazzi senza abusi, senza eccessi e il liceo Vittoria Colonna che va nell'ottica anche del riciclo e del riuso e contro lo spreco perché diffonderanno queste doggy bag che sono i sacchettini diciamo che si possono chiedere al ristorante quando non si termina il pasto quindi cerchiamo sempre come assessorato, come amministrazione comunale di unire al divertimento sempre qualche piccola pillola di formazione quindi credo che saranno due collaterali molto importanti.